E quindi adesso si scopre quello che è realmente l'Afghanistan. In Afghanistan non c'è sicurezza, non sarà allo stesso livello dell'Iragma, sicuramente non c'è sicurezza. E per quanto mi compete io invito tutti quelli che si sono mobilitati per me a fare lo stesso per Clementina, per Floranzo Benaz, per Hussein e per tutti gli ostaggi. Perché non possiamo lasciarli soli. Per me è stato estremamente importante sapere che fuori la gente si mobilitava per resistere, per non lasciarmi andare. E penso che sia importante anche per loro. I'm feeling very close to her because she is living in the same condition So what I passed before, so I really hope that she will be liberated and come back. I'm feeling very close to me. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info